Ciao a tutti i salmoni e bentornati sul mio canale, questo è un brevissimo video per voi, informativo, per chiunque volesse lì, proprio lì, in realtà dovrei indicare di qua, come potete vedere c'è il codice qua, codice RAVDECOBRA97 come codice creatore, lo potete utilizzare già da oggi, quindi schiacciate supporto al creatore, mi raccomando fatelo, sopportatemi al massimo perché io mi voglio bene, perché spero che voi mi vogliate bene e spero che possiamo farci telegramma belle cose insieme, detto ciò vi ringrazio, stiamo giocando al prossimo video, ciao